Ciao ragazzi, benvenuti benvenuti sul canale, io sono Magnus e Claudia Siamo sempre qui su Super Mario U Deluxe, l'avete chiesto in tanti, l'avevo messo un pochettino in pausa Perché abbiamo intensificato, ma proprio tantissimo Non è vero, abbiamo giocato, forse più lei ha giocato, perché lei è più brava Io invece sono rimasto al solito imbranato Faccio partire un sondaggio, perché ancora non ho capito se vi piace stasera e se la vogliamo portare o non la vogliamo portare Scrivete sotto nei commenti, tagliamo o non tagliamo Faccio partire il sondaggio, rispondete in tanti Naturalmente commentate un video, commentate un pochettino per commento e mi piace Allora, dove eravamo rimasta? Ad acque frizzanti Sì, ci sono i pesciolini che ci vogliono mangiare Ok, ho cambiato personaggio Basta, non possiamo essere banali Volevo utilizzare un oggetto, lei è grande, io sono piccolo Ah, ma parto con 0,5 Non dovevi cambiare È stato un errore Un errore Hai visto? Qua si fanno uscire i premi qua Vabbè, quindi praticamente, vabbè, noi siamo bravi Andiamo avanti, non iniziamo subito a perdere tempo Queste sciocchezze Vado avanti io perché conosco Non so perché, ma sono sempre più convinto di aver sbagliato Sì Vabbè, come cavolo sta andando? Non lo so, ho premuto qualcosa Uh, aspetta, ma voglio capire In acqua si possono fare le solite cose, no? Attento che la corrente ti tira verso il basso Eh, ho capito Prendi questo, prendi, lo prendi Ok, aspetta No No, 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 non mi toccare, ti prego No, no, no Spara a tutti, spara a tutti Ok, non c'è più bisogno Ma se vado so Oh, attento No, no, attento Porca miseria, stavo entrando La seppia è cattiva, la seppia è cattiva Ok, meno male che l'ho sparata Ok, allora Io prendo le monete e tu spari, ok? Ok Ma non si può fare più niente Cioè nel senso non posso Cioè no, posso tanto nuotare Allora, entro qua dentro Eh, infilati Aspetta Grande Ok Non è male che stiamo giocando di squadra Ma sopra non si può andare, no? No, non c'è niente Andiamo di qua, dai Oh, qua si può entrare, penso Speriamo Entra Non riesco a entrare No No, non si entra Di qua? Neanche Qui sotto si scende? Oh Eccomi, eccomi Vai che li prendo, vai che li prendo No Ok Nuota, nuota, nuota No Non l'abbiamo beccato Per un secondo Che sfida Attenzione 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 A questa Mazzata Mazzata La seppia Ci sto provando No Ma gli posso salire in testa No Vado avanti La maldita scivola Perché vado avanti di qua Ah, ma là si poteva entrare Aspetta Dove? Qua, qua Vedi No Eh, vabbè Scusami Aspetta, aspetta Non andare troppo avanti Ecco, vedi Ah, ma mi stai morendo Però Sì, mi sono distratta Io invece sto avendo un culo tremendo Ok, da questa parte Uno, almeno Si può dire Aspetta Beccolo anche da chi guarda Schiaccio Ah, sembra tipo come se facesse una puzzetta Vai avanti Vai Questo sembra cattivo Ma questo è enorme Ma non c'è una cosa per sparare Questo sembra cattivo Io sono piccolissima Io ho detto Aspetta Aspetta Vado avanti Aspetta Fai passare a mamma con figli Mazza, che bastardi Vado vado Ok Aiuto Aiuto Io vado sopra Vado sopra Non so che fare Ok Uh Ho beccato anche questa Porca Aiuto aiuto Aspetta Poi se siamo piccoli forse è meglio Aspetta, aspetta La bandiera C'è poi C'è poi Vendo qua la roba Aspetta Per fortuna Ok Eh, aspetta Aspetta Però Abbi pazienza Un momento Sennò poi qua Perdiamo il punteggio Non andiamo avanti Ti aspetto Ti aspetto Ok, arrivo Questo è il checkpoint Sì, prego Ah, ma questa è la cosa che Aia Aia Già mi sento trascinare Perché loro non vanno nella corrente Aspetta Questi sono cattivi Sì Facciamo di passare un attimo Vai Prego signora Può passare Non andare Sono andata Vai Ok Ah, ma se cammino Non vedo dentro Non si entra Non si entra Attenzione Andiamo sopra Ma queste foglie Fanno qualcosa Eh, però Che bastardo No Non lo so Aspetta Io ci provo Oh Ah, ma lo vanno a tirare giù Quindi sto tranquillo Paura Questo non ha cambiato No, no, no Attento che fortissima la corrente Volevo andare là dentro Vado là dentro Perché in pratica Aspetta È entrato Bravo Ah, meno male Uno ha fatto partire Il cronometrino qua Porca Vai Ah, la stella è importante Eh, vai Vai Distruggiamogli il cranio Vai Vai Eh, forse è meglio andare su Averdi qua Vai Dici Eh, sì Perché adesso possiamo avanzare Tranquillamente Mannaccia Stiamo perdendo un sacco di tempo Stiamo perdendo Vai, veloce Veloce Ok No No Mamma mia Che paura Lo sapevo Mannaccia Aspetta Oh, cacchiolina Devo beccare questo Aspetta Eh, dai Ma vai Ma le arde Che fanno? Ammazzano Ah, no Non fanno nulla Ok Mi stavo preoccupando Vabbè, io cammino allora Dai, vai, camminiamo Però sono lento a camminare Aia Presto, presto, presto Ah, no, aspettami Alla c'è la corrente Bisogna anche entrare No No Chi Ok Però abbiamo perso le cose là Ti ho salvato Speriamo che ci Ma non entro Ah, ok Speriamo di beccare altre stelline Oh, abbiamo Non mi piace questa situazione Eh, mo Si farà piccolo, no? Via Mi sono andata Hai fatto tutto Vabbè Ci vuoi rientrare? Ci rientriamo Ok Che hai fatto? Ci sono rientrata Hai detto che dovevamo arrivare È maltempo 129 secondi Sono impazzina Vabbè, ma penso si farà piccolo No Cioè, non si fa niente Aspetta, aspetta Ne caccia le bolle So, come farò proprio Si fa piccolo Vabbè, basta Andiamoci Evidentemente dovevamo tenere O la stella O qualcosa Per battere Scriveteci sotto nei commenti Non lo sappiamo Vado avanti Attenta Ok Uh, là ci sta il coso Eh, vedi Vedi Vabbè Non dobbiamo perdere Dai che li sparo tutti Ok Avanzo È cattivo Attentata la seppia Attentata la seppia L'ho ucciso L'ho ucciso Che cavolo Attentata la seppia Oh, oh Le monetine Oh, c'è pure quello giù È quello blu Questo mi insegue Eh, lo so Perché Aiuto Pure a me mi insegue Ma come sono cattivi Attentativi Ah, da sto bastardo Continua a continuare a inseguire Ma io sono scappato dentro Ma quando finisce sto quadro Vai, dai È finito Abbiamo tipo Beh, vecchiamo Ah, penso abbiamo finito Sì Venga male Ok Cioè, sta per scadere il tempo Io continuo a fare la scema Ok, qua non si entra Qua non si entra Ok Qua non si entra Che facciamo? Io faccio il salto, vai Vai Mario, vai No, Luigi Aspetta Eh, aspetta Dovevamo saltare insieme Secondo me Sempre in testa Vedi Vabbè Lui Ci ha chiamato Mario Eh, voglio dire Solo è questa Eh, vabbè Lasciamo perdere Lasciamo perdere Se mi vedete più alto Perché c'è il cane dietro Quindi State tranquilli Ah, aspetta Qua si fa il gioco Sì Quindi adesso Andiamo a farci Prima questo Che è successo? Ah, è il ladro Bellissimo Questo è divertente Andiamo a prenderlo? Ah, devo ritornare All'altra Tra di là Ci spariamo col cannone Sì, esatto E dove stava però? Eh, posso provare Si sta qua? Vai Vediamo un attimo No, già era l'inizio E te l'ho detto Che non era qua Allora Acqua e frizianti Scrivete Come si fa A ritornare un'altra Da quella parte Perché poi è strano Cioè Come lo becchiamo Quello un'altra volta Cioè, lo ha segnalato Ma non mi ricordo Dove aveva detto Ah, l'ho visto Era più avanti Allora facciamo così Non ci lanciamo Esatto Bravo, bravo, bravo Eccolo là Eccolo qua Ah, l'ho visto Meno male Meno male Adesso dobbiamo Prenderlo e correre A tutta birra Perché questo Devi correre Dobbiamo prendere il ladro Pronto? Sì Via Vai Mazza Sono già caduto Se non ci fosse un domani Sono caduto Sono rimasto dietro Dove cavolo sto No, sono caduto Aspetta Tu vai, tu vai Vai, vai Corri, corri, corri Perché sto andando di qua? Andiamo È qua che Eh, vedi Qua Perdo sempre Perché c'è qualcuno Che mi salta in testa Chissà chi Aspetta Aspetta Maledizione Attento alla pianta Aspetta Oh no C'è Avete visto Perché sono morto In buio No Bravo Ci voleva il trucchetto Hai recuperato Il mal tolto Grazie a un milione Ecco Prendito Lo sei guadagnato Cioè Abbiamo perso Una stella Per guadagnare Una ghianda Eh beh Sì Però abbiamo Beccato il ladro Però è importante Anche questo Ok Quindi ci sarà Insomma Trentina di micchia Adesso No Vedi Nuovo No Ma che cos'è Quella Però è nuovo Però È la ghianda volante Ebbè È sempre una roba buona Andiamo nel fungo Andiamo di qua Sì Ah Qua bisogna riconoscere Il posto No Questo Questi che non Stanno per sparare Le scariche di movimento Raccogliere il più possibile Ok Ok Io non dobbiamo beccare Quegli Allora Io vado sopra Ok Ok Mi portare Una l'ho becchiata Sì Io ne ho beccato Una cattiva Becchiata Ok Le sto beccando Non so Ma vai Però è bastardo Perché me ne butta sempre Anche a me ne butta Ma la mannaccia Scansata quella Basta Finito Becca quella Becca quella Ok Mannaccia L'ho beccata un sacco L'ho beccata Però qualcosa Forse abbiamo recuperato 10-14 Porca miseria Vabbè Vabbè Sempre meglio di niente Abbiamo giocato Male ma bene Ma che cos'è E' la stessa cosa Allora Quindi adesso ci tocca al mostro Boss Sì Ti vogliamo utilizzare Qualche cosa di nuovo No per il momento no Ma ma utilizziamo Dopo la bandiera Ci conviene Vabbè Andiamo avanti Entero Io sono l'isterica Questa però è il boss Torri dei rulli pungenti Mi devo preoccupare La musica la mi piace Che è sta cosa Così Ammazza che si albi Continui a saltarmi in testa Sono passati 15 giù Eh ma tu però mi ammazzi Però dall'altra parte Allora da qua Ah qua c'è la cosa Justamente a me viene da dire Ma com'è che sta ancora A miseria aspetta Vai io prendo il fungo Tu prendi il fiore No ok Facciamelo Ah io Non t'ho sentito Scusa Lo vuoi tu il fiore? Eh qualcuno deve prenderlo Perché io sono piccolissima Aspetta Eh dai Se ci arrivo Oh Ma allora si può entrare qua dentro? No Non penso Aspetta appena avanti Prova Eh prova Prova entra anche all'altra parte Così facciamo più No niente Qua non si entra vai Pronto? Ok Rallenta Rallenta Quando arriviamo altro? Sì Ok Meno male che so nuotare Vai 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 Sono finiti No no Ok qua c'è E mo? Ah ho capito Ah ho capito Facciamolo prima da sotto Facciamolo prima uscire Vabbè ci abbiamo abbastanza tempo Quindi quando rientra Vai Andiamo Ok Attento che esce Dove? A destra vado Sì vai a destra Sempre queste cose complicate E là Che Culo tremendo Uh aspetta Sono diventato Sì Volli così Come volo? Ah così Uh attenzione Ok Ah così Meno male Ho beccato tutto io Scusami Hai fatto bene Perché preferisco essere principessa Aspetta Come si fa Ah già Non posso Più volare Ce la fa essa E non vedo dove sono E questo è il problema Mannaggia Miseria Mi ha becchiato Aspetta perché Attenzione che questo è bastardo Ma mica mi becca questo Che cuno Arrivo Aspetta eh Sì sì Con cautela Poi dobbiamo saltare là E poi là eh Sei pronta? Vai Perché ti abbassi? Vai Perché mi fai sempre saltare? Eh ma mi salti sempre in testa Dai ti aspetto Oh io salto in testa Ti aspetto Vai Possiamo saltare Vai Qui non era un fatto di confusione Era un fatto di saltamento in testa Com'è cattivo questo Arrivo eh Paura Aspetta La miseria No Ok Ci sei? Ma porca miseria Perché se sta sto credendo Aspetta Ok vado sopra così ti recupero Dall'altro lato Tanto sei morto Ma come sono Ma io volavo prima Checkpoint Lì c'è pure il cannoncino Prendilo tu Così diventi grande Vai Dove sta Ecco fatto E ora come si fa scendere qua dietro Non si può scendere Perché? Lo abbiamo perso penso No scusami Non si può entrare Vabbè Uh Porca mi c'è La ghianda La ghianda Ma con questa che faccio? Volo? Aspetta Non mi ricordo come si fa volare Ah ecco Ma se spari? Arrivo Arrivo Spari? Sparo? No Ma perché? Mi hai fatto questo Ok salta 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 Sei stato cattivissimo Salta 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 No Ma cosa stai facendo? Cosa mi stai facendo? Stai vincendo Vabbè arrivato a questo punto Vai su Aspetta Ma come si fa a fare Eccovi Ti tocco Ti tocco Grazie Ma come facciamo? Siamo senza niente E morirei Siamo fottuti ragazzi Devo fare praticamente Ricorso a tutta la mia classe Questo sarà cattivissimo Dobbiamo saltare in testa? Di solito Ah fa le onde Fa Si Aia La vedo nera Ok Bravo Nene Lo sapevo Non morire Ti ho detto Non morire Sei morta Ma non mi stai sentire Ero troppo piccola Allora Secondo me Se uno gioca a destra Gioca a sinistra E meglio Ok a fare fatto Perché se no Si appiccichiamo Io vado a destra Vabbè Ok Brava Ok Soltanto quando sta abbassato Allora possiamo colpire Ok Brava Questo è dal lato mio adesso Mamma che Maledizione Meno male che sono morto L'ho distratta E abbiamo vinto Ammaia Quanto è importante la mia presenza in questo gioco ragazzi Ecco Meno male Meno male Perché quello l'ho visto Ha guardato me E si è distratto E lei È un piano Un piano Diabolico Dove andiamo di qua? Che sta succedendo? Un tornado Usa il bar E certo Questo l'abbiamo Salvataggio di uscito Perfetto Sono culoso Guarda Ci facciamo un altro livello E poi basta Posso andare a destra a sinistra No Andiamo avanti Oggetti Oggetti Non utilizziamo mai I fantasmi E quindi Questo qui è terribile Io odio i fantasmi Non si possono ammazzare Che è quel coso l'ho? Ah Devi stare attenta Se no ti cade in testa A mui Io pensavo che fosse Una scatola normale Ok E mo? Odio i quadri dei fantasmi Attento Porca miseria Maledetta scatola È complicato Sì Te l'avevo detto Andiamo lì a sinistra No A sinistra no Aspetta Devo andare a destra Se non è più facile Ok Ce la fai? Sì Ce la farò Qua è difficile Mi raccomando Ce la fai? Sì Ce la farò Se non smetti di saltarmi in testa Magari ce la faccio Ok Andiamo di qua? Sì Dobbiamo salire qui su Continua a cadere Ma è difficilissimo Bellissimo Mi fa tempo Mi becco quello Ok Bravo Beccalo Magari Dobbiamo Ah no Serve a te Serve Per me Eh c'è la fai Sì da là Eccomi Ok Era questo il problema Ma qua dentro Non possiamo uscire Forse sì C'è anche una vita Ah vedi da qua Ah ecco Era troppo tardi E adesso Ma sei morto Oh sono morto Pensavo se andasse sott'acqua Oh no Mannaccia la misera Mannaccia Ma questo ci segue A vita Ci segue Scusami Ok Scusami Allora io non No Ok Ah pensavo che morissi Oh mi becco questo No Porca di quella miseria Porca Che Ah ma quindi possiamo fare pure così Sì Quante cose che stiamo scoprendo Ok Attenzione al fantasma Attenzione al fantasma Oh Aspetta Malefitte Ok Ha detto che è cattivissimo Ma che mi ha dato Ok Ce la facciamo Attenzione Vai Ma la moneta la vorrei beccare Ecco Ecco Appunto La vorrei beccare La moneta Vabbè Niente moneta Attenzione qua Questa è acqua E vai Tu mi spingi Ma io Ho paura Oh Questi fantasmi Sono cattivissimi Appunto Attenzione Attenzione Ecco C'è C'è Non è beccato Niente Vai Questo quadro è terribile No Che bastardo Mi stava buttando sotto Ad avanti nel tentativo di ammazzare a qualcuno Ma non puoi ammazzare nessuno Ecco Non muore Non muore Il bastardo Perché Attenzione Questo è cattivo Questo è cattivo Vado in acqua Ma no Aspetta Io entro Basta Così vieni Ma non mi raggiungi Ah ecco Si è arrabbiata Però adesso C'ho la potenza Ah no Intanto Non si possono ammazzare Questi Secondo me da super è meglio Vado Io vai tu Vado Li evitiamo Così Ecco C'è anche questo Ma che cos'è Aspetta Ma non ce la faremo mai No Che cavolo è Perché si stringono Ok Complicato eh Questo cretino sta Ce l'hai fatta Sono qui Non lo so come ce l'ho fatta Mamma mia Beccati quello eh Si l'ho preso per perderlo Ah Ma questo quadro è troppo difficile Ok Ah non sono cattivi No Sono cattivissimi Ah ve lo scappo E ma E dove devo andare Forse sotto Ah ok qua Meno male Non so come ce l'ho fatta ragazzi Non so Se c'è una bandiera Falla aprire a me Così cresco E tu Eccomi Sono morto Ah ok Attenzione qua Ma il checkpoint non c'è mai Ma devo stare attento qua Qua secondo me c'è la fregatura All'improvviso Beccatolo tu vai Grazie Secondo me c'è A un certo punto c'è la fregatura Penso anch'io E' terribile Vai Attenzione Uh aspetta Aspetta tu rimani sotto Te lo sparo in testa Ah ok Tu lo vuoi? Arrivo Dove una domanda andare sotto o sopra? Penso sopra Ok sopra sopra Mamma quanto tempo che stiamo perdendo Ma questo quadro è difficilissimo Come è cattivo Come è cattivo questo No sono caduto Ho beccato una cosa ma sono caduto Se questo quadro si toglie magari noi possiamo Ah dobbiamo aspettare che si toglie No no non lo sparare Non lo sparare Se no non si sposterà mai Fate più qua Che palle Non lo guardare Non lo guardare Ah non lo guardare E' come un due o tre stelle Ah ok ti salta Ok vale Arrivo Era una porta finta E mo? Non lo so Ah vedi? Ah ecco Ah ecco Ah vai Stava qua Penso di essere entrata anche nella porta Ok Mannaccia quanto tempo che abbiamo perso E' terribile questo quadro Non ce la faremo mai Non c'è manco il checkpoint Mi sono estremamente preoccupato Dobbiamo fare in fretta Ci abbiamo 137 secondi Per non morire Ma penso sia finito Beh qua dovrebbe essere più facile penso Salta che c'è? Ah si è finito Vabbè ci abbiamo tutto il tempo Se vieni qua ce la Vai sali 400 che schifo E 8 e 4 fanno 12 Ah pensavo che saremmo morti Un millione di volte Noi siamo morti Non credevo saremmo riusciti a farlo Poche volte E ce l'abbiamo fatta comunque Interruzione di telefonata Però non fa niente Vediamo se si libera qualche altra cosa Ah che sicuro Quindi possiamo andare A sinistra e a destra Ma giù no No Che bello Soltanto di qua Ok ragazzi Se io penso che questa parte Può terminare qui Mi raccomando Scrivete sotto nei commenti Se vi fa piacere Così vi portiamo anche altri livelli Naturalmente questo nuovo video Questo è il momento Su Un bel commento Un bel mi piace Ci vediamo Siamo al prossimo video Ciao Ciao Bye Ciao Ciao Grazie a tutti